Si terrà domenica 30 luglio alle ore 20 e 30 presso l'Istituto dei Padri Rogazionisti di Oria l'ottava edizione del Paratorneo dei Rioni, l'evento inclusivo dell'estate oritana che combina insieme storia, sport e disabilità. Un appuntamento in costume d'epoca che vede protagonisti quattro rioni e sette gare di ispirazione medievale. A contendersi l'ambito palio donato quest'anno dalla dottoressa Angela Di Mida saranno 14 atleti provenienti da diversi paesi della provincia di Brindisi. L'evento di carattere sportivo-culturale ideato e organizzato dall'Associazione Exequo rappresenta un progetto unico in tutta Europa nato con l'intento di dissolvere l'antinomia che da sempre contrappone il Medioevo alla disabilità. Quella del 30 luglio rappresenta la serata conclusiva di una serie di allenamenti che ha visto come protagonisti ragazzi e ragazze di diversa età, disabilità e background. Tra i fedelissimi veterani e gli nuventri infatti c'è chi ha avuto modo di mettersi alla prova in competizioni sportive e chi allo sport si è avvicinato solo da pochi mesi. Ma per noi questo non rappresenta un limite anche perché ricordiamo che le attività del paratorneo pur avendo alla base l'atletica leggera propriamente detta vengono svolte su attrezzature non convenzionali che richiamano i giochi medievali. Il paratorneo infatti prendendo spunto dal torneo dei rioni, rivocazione storica simbolo della città di Oria, offre ad atleti aventi disabilità psicofisiche la possibilità di sentirsi protagonisti della tradizione e della cultura uritana, disputando da soli o in gruppo gare appositamente studiate da professionisti del settore terapeutico-riabilitativo e istruttori di ginnastica preventiva adattata. L'appuntamento è dunque fissato per domenica 30 luglio e l'ingresso sarà come di consueto gratuito.